Millennium TV è la prima vera radiovisione local della Lombardia. I video, la musica, le dirette degli speaker, interviste a cantanti e manager aziendali, tutto rigorosamente live e tutto contemporaneamente in radio e in tv per raccontare 24 ore su 24 quello che succede nel nostro territorio. Millennium TV, la nostra forza, è essere local. La nostra forza siete voi. Spargete la voce e sintonizzatela ovunque. In Lombardia siamo al tasto 693 del telecomando.